Buona visione da Centro per l'Udito del Dottor Salvatore Portaro, Piacenza, Cremona e provincia di Lodi. A Piacenza, in via Raineri 2D. Buonasera e benvenuti alla nostra rubrica dedicata agli ausili acustici. Come sempre siamo con il Dottor Salvatore Portaro, tecnico audioprotesista. Buonasera, Dottore. Buonasera, Loretta. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori di Telecolor, ma anche ai due ospiti di cui poi farà l'introduzione. Esatto, infatti oggi la novità è che non siamo soltanto io e lei, come al solito, ma abbiamo due ospiti che ci racconteranno la loro esperienza, i loro problemi legati all'udito e come li hanno risolti. Inizio col presentarvi il primo ospite che è il signor Walter. Buonasera, Salve. Benvenuto. Allora, Dottor Portaro, ci può spiegare un po' qual è la situazione del signor Walter? Certamente. Con il signor Walter ci conosciamo ormai da più di vent'anni, per cui l'ho seguito dagli albori quando ha cominciato a avere problemi di udito. Lui è una caduta asimmetrica, cioè un orecchio sente meno dell'altro, ma la sua storia è legata all'ambiente di lavoro. Lui è un tecnico altamente specializzato, per cui lavorava con macchinari importanti dove doveva anche sentire le menime differenze, per cui nei momenti in cui non aveva la protezione di una cuffia e altre cose, negli anni e nel tempo, insomma, ha cominciato ad avere problemi di udito da questo punto di vista. Per cui lui saprà raccontare meglio un po' tutto e abbiamo dovuto aiutarlo con usili acustici che nel tempo ha cambiato, per cui ha seguito anche in qualche modo la tecnologia. Ecco, la prima cosa che ho notato, signor Walter, le ho detto poco fa quando ci siamo conosciuti e gli ho chiesto se lo indossava l'apparecchio perché io non l'avevo visto. Sì, le indosso tutte e due e con gli occhiali non mi danno nessun fastidio, anzi, adesso sono veramente soddisfatto del tipo e degli apparecchi che ho, ecco. Come diceva tra l'altro il dottor Portaro, recentemente ne ha acquistati di nuovi, quelli proprio di ultima generazione, che hanno l'intelligenza artificiale, quindi le consentono per esempio di utilizzare il cellulare. Sì, il cellulare è legato solo agli apparecchi, mi suona là, parlo tranquillamente senza avere il cellulare in mano e non ho nessun problema. Com'è cambiata la sua vita quando ha deciso di acquistare un apparecchio acustico? All'inizio cominciavi a far fatica, poi a far ripetere alla gente quello che diceva e dopo mi sono deciso, dopo varie prove o tentativi, di mettere il primo a sinistra, che era quello con più problematica e da lì è migliorato, migliorata la mia vita anche nel lavoro, la vita sociale, perché ho cominciato a non dover... e a far ripetere alla gente il problema era nato dal lavoro, dalla vita che facevi, quando ho cominciato a lavorare nel 70 non c'erano certe protezioni, e lavorare in un'officina con tanta gente è peggiorato sempre di più, dopo nel lavoro all'estero con i macchinari passavi da una sala con rumore alla sala senza rumore e c'erano solo le cuffie, perciò le mettevi, le toglievi, le mettevi e dopo ti stancavi perché era normale. Adesso da pensionato con i due apparecchi in moto, al ballo, in compagnia, al ristorante, vivi la vita. È molto interessante quello che raccontava il signor Walter rispetto alla sua esperienza lavorativa. Un tempo in effetti non c'erano le protezioni che oggi ci sono, ne abbiamo parlato tra l'altro estesamente in un'altra puntata. Sì, è vero, le cuffie ci sono sempre ed è un'ottima protezione, solamente che sono un po' ingombranti. Poi in estate danno fastidio perché si suda, chiude un po' la parte dell'orecchio così in generale. Mentre oggi noi per esempio consigliamo e facciamo gli otto protettori su misura, per cui viene preso proprio il calco del condotto uditivo della persona, viene costruito, sono otto protettori certificati e che permettono a secondo il tipo di ambiente lavorativo di abbattere i suoni che danno più fastidio, che possono creare problemi di udito, ma permettono anche di comunicare tra colleghi. Questo è importante. Come diceva Walter, quando avevo la cuffia magari dovevo parlare con qualche collega, me lo toglievo, dovevo sentire qualcosa di particolare e poi non la mettevo più. Mentre gli otto protettori su misura invece è tutto un altro mondo, oggi come oggi, a parte che sono confortevoli, igienici, sicuri e durano anche nel tempo, ma soprattutto proteggono in modo differenziato differenziato secondo proprio l'esigenza che ha lavorativamente il paziente. Per cui se lavora in un ambiente alimentare, un ambiente meccanico, eccetera, viene studiata la cosa e viene costruito con dei filtri particolari. Ecco, se lei dovesse dare un consiglio a chi ci segue su come comportarsi di fronte a un problema di sordità, immagino non avrebbe dubbi. No, non avrei dubbi e consiglierei di farlo il prima possibile. È pentito di aver aspettato. Ecco, è pentito di aver aspettato perché ho peggiorato, aspettando. Se invece andavo subito magari si fermava il mio deficit, non sarebbe peggiorato, ma sarebbe rimasto in un campo molto migliore. Lei l'indossa tutto il giorno? Tutto il giorno. Se li dimentica? Sono uno che è minimo 14-15 ore al giorno, ce lo so. Sta più con gli ausili acustici che con la compagna. Che senza. Ma io dalla mattina alle 8 fino a mezzanotte e così sono sempre con gli apparecchi. A volte li dovevo ricaricare mentre ora di cena li metto lì un 10 minuti perché sono a ricarica e ricarico quel dopo può andare tranquillamente perché questi nuovi si ricaricano. Una volta si cambiava la batteria, giusto? Una volta si cambiava la batteria. Sì. Ci sono ancora, mi sembra, quali… Signor Walter ha vissuto un po' tutti i cambiamenti tecnologici degli ausili acustici in quanto poi negli ultimi anni, negli ultimi due anni, si sono perfezionati ancora di più. C'è questo sistema con intelligenza artificiale che permette anche di non usare più la batteria, per cui in qualche modo si è più ecologici, si risparmia, per cui si ricarica direttamente. Ma poi il sistema di intelligenza artificiale a lui l'ha aiutato tantissimo perché andando in moto si collegava con i dispositivi telefono, eccetera, poteva mettere il casco tranquillamente. Ma come avete sentito… Anche con il navigatore, con tutto si collega, perciò anche col casco vai tranquillamente perché senti le informazioni di tutti. Ma non solo, un altro passaggio importante che ha fatto perché il penultimo ausilio acustico aveva un sistema di ascoltare la tv, perché è una delle cose più difficili che ci dicono i pazienti, con un dispositivo, un accessorio che noi si montano vicino alla tv, trasmetteva direttamente. Con questo sistema addirittura non lo usa più perché riesce a capire bene la televisione. È una cosa importante, come diceva prima, ha una vita dinamica importante. Lui spesso va fuori a cena con gli amici, con i familiari, va a ballare e sente parlare perché sono ambienti acustici complessi e difficili. Per cui fa una vita normale. Normalissima proprio, adesso devo dire… E non si vedono Walter, non si vedono, tutti pensano, non si vedono. Non sono i capelli. Non sono i capelli che ecco, non si vedono. Quando quindi non aveva ancora l'apparecchio acustico tendeva a isolarsi, evitava certe situazioni. Tenevi a stare un massimo in due perché dopo facevi confusione. O isolarsi, andare da solo perché anche la musica non è che la sentivi, la batteria ma non sentivi bene. Invece adesso ballo tranquillamente. Non ho problemi, anche al ristorante sono focalizzati su quello che hai davanti. Non c'è più il rumore posteriore. Prima, i primi, c'era il rumore di tutto e a tante volte lo spegnevo perché era migliore. Almeno sentivo solo quel poco che riuscivo a intuire dai vicini. Adesso con questi qua è molto, molto migliore. Un'esperienza quindi assolutamente positiva, dottor Portaro. Positiva infatti si dimentica anche di averli, come l'occhiale. Valtare gli occhiali, non me lo ricordavo perché fa parte ormai, ecco perché dico sempre, parliamo di ausili acustici perché ti aiuta nella vita a trovare un problema che risolvi facilmente. Parlare ancora di, anche se nel gergo si usa apparecchi acustici, ci riporta un po' a cose un po' vecchie. Ti fa sentire anche un po' in difetto rispetto agli altri e alla società. Invece no, è nella vita quotidiana normale e lui fa una vita normale, dinamica, come hanno tanti, però nessuno se ne accorge, nessuno se ne accorge veramente. Tra l'altro il signor Walter è anche molto tecnologico, diciamo, perché insomma a quel che mi ha spiegato ha preferito l'ultimo modello e lo utilizza in tutti i modi. Ci sono però persone, magari più anziane del signor Walter sicuramente, che hanno un po' rifiuto, magari il cellulare non interessa, per cui per loro esistono comunque apparecchi anche diversi, più economici. Indubbiamente, certo, certo, perché poi la tecnologia c'è anche un discorso di differenza di costo, però dico sempre il costo che ha pagato un paziente è sempre inferiore al valore che ha ricevuto. Oggi come oggi si sta allargando un po' la gamma ad ausili acustici con costi più bassi, con sistemi di intelligenza artificiale che funzionano anche bene, per cui speriamo anche già nel 2024 i nostri fornitori ci hanno informato di cambiamenti che avverranno, per cui molto interessanti. Non è un restyling come succede per le automobili e per i cellulari, c'è proprio un cambiamento tecnologico a favore della persona, perché comunque non sentire significa tanti problemi, ti isoli. essere fuori, troppo isolato tranquillamente, poi dopo ti vergogni a volte di continuare, non ho capito, scusa, non è proprio vita. Eh sì, questo è un aspetto assolutamente importante. Ci puoi dire qualcosa di più sull'apparecchio acustico, sull'ausilio acustico che utilizza il signor Walter? Sì, il signor Walter utilizza un sistema a ricarica, come questo qui, praticamente dove destra e sinistra vengono messi la sera per ricaricare, e poi la loro funzionalità è veramente eccezionale, non sempre neanche di avere un ausilio acustico su, perché l'ascolto è fenomenale. Facilmente la mattina si prende, è già carico, un po' come il cellulare, noi lo ricarichiamo la sera per utilizzarlo di giorno, e si applica su anch'io l'occhiale, eccetera. Loro sono più bravi di me, sinceramente, per cui una volta indossato funziona e basta, non c'è bisogno di fare altro. Per cui la sera poi si pulisce e si rimette nella sua ricarica. Adesso ogni ausilio acustico, ogni ricarica hanno un design diverso, perché comunque è diventato anche oggetto un po' di design, di bellezza, e vincono anche diversi premi, un po' come succede per le automobili. Mentre ci sono poi dei sistemi endauricolari, come questo modello qui, che praticamente viene indossato dentro il condotto, e una volta indossato funziona a batteria e la persona sente perfettamente. La scelta può essere estetica, ma anche funzionale, dipende dalla conformazione del condotto, dipende dalla caduta uditiva, o delle esigenze del paziente, perché un ausilio acustico può avere diverse funzioni, un altro ne ha funzioni diverse, per cui scegliamo proprio a seconda dell'esigenza che ha il paziente. Come per esempio un altro sistema molto molto d'avanguardia, che assomiglia un po' agli auricolari che si usano per il cellulare. In questo caso è anche un ausilio acustico, lo si prende, lo si indossa e già funziona. Uno può sentire tutti gli accessori tecnologici, dal televisore al cellulare, al tablet e così via, ma anche ha una funzione di ausilio acustico. Questo può essere stato studiato per le persone più giovani, dinamiche, che chi fa sport può andare anche nell'acqua per una mezz'oretta e non succede nulla, non si guastano e così via, però noi abbiamo avuto riscontro soprattutto con le persone di una certa età, in quanto sono anche facili da applicare e hanno trovato un giusto equilibrio. Per cui di tecnologia ce n'è tanta, l'importante è applicare per la seconda dell'esigenza, e per cui oggi come oggi direi farsi aiutare a livello uditivo diventa più facile, veloce e con una scelta ampia che noi facciamo insieme al paziente, in modo tale che quando esce dallo studio siano perfettamente soddisfatti del risultato ottenuto. Bene, signor Walter, ha qualcosa da aggiungere, da condividere con noi su questo? Devo solo puntualizzare che sono molto soddisfatto dagli apparecchi e dal lavoro che ha fatto il dottor Salvatore Portaro nei miei confronti e nei confronti anche dagli altri, sono soddisfatto. E si vede. E vorrei che anche altri seguissero il mio esempio e andassero a fare... Senza aspettare, senza perdertelo. Senza aspettare di avere problemi poi impossibili da risolvere. Esatto, attendere la cosa peggiore. Grazie signor Walter. Grazie a voi e arrivederci. Arrivederci. A questo punto vi presento l'altro ospite che sarà qui con noi per questa seconda parte di intervista che ha un problema diverso dal signor Walter che è il signor Gianni. Benvenuto signor Gianni. Grazie, buongiorno a lei. Allora dottor Portaro, ci racconta qualcosa del signor Gianni? Sì, signor Gianni, ci conosciamo anche con lui da tantissimi anni. Mi raccontava che lavorava in un ambiente molto rumoroso anche lui, meccanografico. Oggi certi rumori sono cambiati, non esistono più nell'ambiente suo lavorativo, ce ne sono di altri, ma all'epoca apparecchiature molto molto all'avanguardia però facevano molto rumore, oltre che si surriscaldavano anche tantissimo. E questo al signor Gianni, probabilmente lui mi raccontava anche che ci poteva essere anche una ereditarietà familiare, eccetera, ha cominciato ad avere problemi soprattutto sull'orecchio destro che poi, ahimè, abbiamo aiutato, però poi è andato sempre a peggiorare finché praticamente non ha più udito sulla parte destra. Allora l'abbiamo dato sull'orecchio sinistro che ancora si mantiene con una caduta medio-grave però la scelta in questo caso era d'obbligo aiutarlo sull'orecchio che ancora aveva funzionante. La scelta del signor Gianni è stata un po' diversa in quanto abbiamo usato un endo auricolare, cioè un ausilio acustico che viene messo direttamente nel condotto, era la scelta che lui preferiva per vari motivi, eccetera, e comunque se la cava bene, devo dire che se la cava molto bene. È un giovanotto un po' più su negli anni però dà punti a tutti quanti perché è una persona molto dinamica anche lui. Ecco, innanzitutto come si trova con l'apparecchio acustico? Benissimo. Se non mi trovassi benissimo provvederei a dire cosa si può fare per trovarmi poi benissimo. Certo. E quando ha deciso di metterlo come stava? Ho deciso di metterlo all'orecchio destro, il sinistro udiva discretamente bene, l'orecchio destro invece mi dava problemi e abbiamo applicato, adesso io non so la terminologia giusta, comunque un apparecchio che entra nel condotto e scompare, no? Mi trovavo benissimo, si stava bene. Poi dopo alcuni anni è degenerata la cosa nell'orecchio sinistro, il destro probabilmente come ha detto il dottore è una questione di ereditarietà, si è andato completamente, il sinistro invece, lo stiamo curando ancora attualmente, le cause che mi hanno portato a dover usufruire di un apparecchio, chissà quali sono. Quelle noi le sappiamo, però sicuramente l'apparecchio la aiuta tanto. L'apparecchio è indispensabile, se non avessi quello sarebbe un continuo, come, cosa, cosa hai detto, sarebbe insopportabile la cosa, quindi è indispensabile. Certo, chiedo, lei guida la macchina? Io guido la macchina. Non potrebbe forse senza, comunque... No, no, con l'apparecchio supero gli esami tranquillamente, quindi non ci sono problemi. Però non potrebbe guidarlo senza usare l'apparecchio? Eh, no, senza apparecchio no, sarai ancora inconsciente. Per cui è proprio vero che è indispensabile per avere una quotidianità, diciamo, normale, per essere indipendente. Certo. Lei lo indossa tutto il giorno? Tutto il giorno, tutto il giorno. Ripeto, come potrei fare, senza non lo so, perché sarebbe un continuo chiedere conferma tutte le volte che qualcuno parla per farmi ripetere quello che ha detto, sarebbe impossibile, no? Quindi... Il signor Gianni, lei diceva, ha un apparecchio diverso, quindi non si collega al cellulare. È più semplice anche da utilizzare? Sì, sì, è un ausilio acustico più semplice, anche perché, parlando al signor Gianni, non aveva queste esigenze di collegarlo al cellulare, anche perché dipendeva dal tipo di cellulare che lui usa, per cui era un cellulare abbastanza semplice, per cui usa il telefono come tutte le persone normali. Io ho un cellulare semplice perché ho le nausee da informatica. Perché hai lavorato in quell'ambiente? Perché nel 58 io ho cominciato a occuparmi di informatica, ma se uno pensa di informatica, della tastiera e del monitor, è impossibile. un centro elettrocontabile, no, un centro meccanografico, allora, per fare quello che fa oggi, una tastiera, un monitor, una macchinetta e una stampante, pesava 500 tonnellate. erano macchine enormi, rumori, proprio impensabili, ecco, se uno non le ha vissute, vabbè. Capirle. Poi invece le cose sono progredite, sono migliorate, e oggi, però, mi è rimasta la nausea da informatica. Certo. Per quanto riguarda invece la televisione, lei riesce a sentirla bene? Sì, 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 riesco tranquillamente. Insieme alle altre persone. Se ci sono dei problemi con le casse, mi metto le casse a vicino, anziché ascoltare la televisione, ascoltare la casa a vicino. E anche perché la televisione, negli ultimi anni, sono cambiati i televisori, sicuramente a livello qualitativo di immagine è una cosa imparagonabile, però, se uno guarda, è sempre un quadro, dove metterla al muro, ma dove è l'uscita audio? Una volta era anteriore, anche due casse, no? Adesso ce n'è una solamente digitale dietro, per cui c'è una dispersione audio in modo incredibile. Anche il modo di trasmettere a volte dei film, oppure anche delle trasmissioni, eccetera, quella che era la colonna sonora di una volta, adesso è una musica di fondo che c'è sempre, ha un volume, un'intensità quasi pari a quello del parlato. Per cui faccio anch'io fatica a volte a capire, ecco perché i fornitori, i costruttori di ausili acustici sono ben consapevoli di questo problema della televisione, ce l'abbiamo tutti in casa, la guardiamo tutti, eccetera, per cui sistemi che si collegano con l'ausilio acustico permette una vita sicuramente più tranquilla e serena all'ascolto della televisione. Oppure, come diceva il signor Gianni, stanno andando nuovamente in voga le casse acustiche da collegare alla televisione e da portare il suono avanti e questo facilita tantissimo chi ha un ausilio acustico, oppure in generale la qualità dell'audio è migliore, ma permette sicuramente un volume e un ascolto più corretto affinché i familiari, il vicino di casa non si lamentino, ecco, per cui la scelta del tipo di ausilio acustico funzionale, tecnologica proponiamo noi, poi lasciamo un attimino la possibilità al paziente di spiegare come un sistema ibrido, cioè con l'altoparlante nell'orecchio e tutto il resto fuori, completamente dentro l'orecchio, o sistemi diversi in modo tale da farli capire a secondo la vita dinamica che ha la persona, quale potrebbe essere la soluzione migliore per vivere la quotidianità in tutti gli ambienti in modo confortevole, tenendo conto che il signor Gianni ha anche una vita dinamica, perché è una persona che ama stare con gli altri, per cui non è una persona che si è ritirato, anche se è in pensione ormai da tanto tempo, ma magari aiuta in famiglia, eccetera, per cui è sempre in contatto con persone anche nuove e questo gli permette anche di sentire e di capire bene, ma come soddisfazione anche sua, altrimenti se uno sente male comincia veramente a ritirarsi e fare una vita che poi non è più quella della normalità. Ecco, questo testimone... No, 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 sono perfettamente d'accordo. A un certo punto l'età si fa sentire, chi dice che è che diventa vecchio e è ancora giovane, era vecchio quando era giovane, però bisogna mettercela tutta per poter vivere insieme agli altri, partecipare, essere attivi, interessarsi delle cose e per interessarsi delle cose, bisogna ascoltare e vedere e basta. Non voglio desiderare. Grazie, ringrazio il signor Gianni per la sua testimonianza che ci ha portato. È stato un piacere. E grazie anche al dottor Portaro. Grazie a voi, grazie a voi, per cui non aspettiamo che le cose a livello uditivo vanno a deteriorarsi, a perdere tempo è la soluzione peggiore, per cui la prevenzione di cui si parla tantissimo vale anche per l'udito. Prima si interviene e prima si trova una soluzione che sicuramente serve solamente a vivere meglio, sia con se stessi che con gli altri. Grazie di nuovo e grazie anche a voi telespettatori. Buon proseguimento di serata. Arrivederci da Centro per l'udito, del dottor Salvatore Portaro, Piacenza, Cremona e provincia di Lodi. A Piacenza, in via Raineri 2D. Grazie a voi, grazie a voi.